Ciao e bentornato a una nuova puntata di Critico Digitale. Oggi ti voglio parlare della differenza di generazione e di come questa differenza può creare delle problematiche per il tuo business. Ma prima di questo ti voglio spiegare che cos'è Critico Digitale. Nelle ultime puntate lo faccio sempre, ma perché sto assistendo a un ingresso di persone molto importante, quindi mi fa molto piacere ad ogni puntata cerco di spiegare brevemente che cos'è Critico Digitale. Critico Digitale è un metodo per cercare di portare più avanti la conoscenza del digitale, che non sia solo superficiale su quello che usiamo tutti i giorni o su quello che cercano di farci credere tutti i giorni. Facebook è una bacheca per condividere, non è una bacheca per condividere, è un enorme database con cui fare ricerche di marketing e con cui riuscire a pubblicizzare prodotti, conoscere desideri e controllare anche le folle, c'è chi dice anche questo. Se conosciamo bene certi meccanismi possiamo difenderci, possiamo anche aderire a tutte quelle policy di privacy ad esempio che ci consentono di essere meno esposti ad alcune azioni, tutto questo però è poco conosciuto, in pochi ne parlano o comunque chi ne parla lo fa soltanto per attivarsi e vendere un suo prodotto, no? Spesso è così. Beh, Critico Digitale allora vuole semplicemente portarti ad avere un pensiero critico di ogni cosa del digitale che può e pervale già la nostra vita, sia quella personale ma soprattutto quella nel business, conoscendo poi a fondo i meccanismi che stanno alla base di un social network, alla base di un motore di ricerca, insomma alla base di tutto ciò che in questi giorni in questa epoca noi utilizziamo per il digitale può farci comprendere in anteprima quali sono i rischi, può farci capire in anteprima quali sono le opportunità e quali sono quelle da scartare e quelle da mantenere, insomma Critico Digitale è questo, un percorso da fare insieme in cui sviluppare un pensiero critico. Ma ora torniamo a noi e andiamo subito a parlare di cambio generazionale. Quante volte sento dire beh la nostra azienda è aperta da 40 anni, la nostra azienda è aperta da 60 anni, la nostra azienda è dal 1900 bla bla bla. Beh è sicuramente un merito, sicuramente non c'è da vergognarsi e anzi festeggiare quando arrivano alcune date. In un'altra puntata ti racconterò di come si organizza magari un quarantesimo anno, dato che lo sto facendo proprio adesso per un mio cliente che è la Techpol che festeggia quest'anno i 40 anni e ha deciso di fare le cose in grande, ma te lo racconterò in un'altra puntata. Quello di cui voglio parlare oggi invece è il fossilizzarsi sul fatto che avere tanti anni alle spalle ci permetta di essere sul mercato a prescindere dalle sue variazioni, cosa che in realtà non è affatto così. Quante volte ti è capitato magari di scontrarti con qualcuno che ti dice beh ma io sono 40 anni che faccio questo lavoro, lo saprò io come funziona? Assolutamente sì e questa è la prima lezione, avere a che fare con qualcuno che fa lo sborone perché sta da 50 anni sul mercato per primo impatto magari ci porta ad allontanarci da quello che beh sì vabbè ho capito ma te non ci capisci niente, ormai sei vecchio, ormai no, 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 assolutamente. Lui è 50 anni, 40 anni, 60 anni che sta sul mercato sa come funziona o perlomeno sapeva come funzionava e per la regola che dicevamo nelle puntate scorse, dato che la redazione è ancora una delle cose più importanti del commercio sicuramente questo lo facilita ma non lo protegge dalle variazioni dell'età generazionale. Ma allora che cos'è questa variazione Justin di cui vuoi parlare? È la variazione dei valori nelle persone a cui andiamo a vendere il nostro prodotto perché se ci pensiamo, io ho fatto questa domanda all'interno del gruppo Critico Digital Club, lo trovi su Facebook, è un gruppo chiuso in cui puoi venire a parlare di questi argomenti, puoi sia argomentare la puntata dopo che è uscita sia aiutarmi a costruirla, infatti questa puntata l'avevo un po' anticipata chiedendo a chi ne fa parte, ormai siamo in molti nel gruppo e quindi abbiamo diverse tipologie da chi lavora all'interno di una multinazionale, da chi è libero professionista, quindi ci sono un po' tutte le vedute all'interno del gruppo, ecco ho chiesto voi da quanto lavorate e il vostro cliente che età minima e massima, beh è venuto fuori che ovviamente ognuno ha un suo target che può oscillare con una differenza di 20 anni, 30 anni, beh c'è anche il commercialista che giustamente ha la variazione più ampia perché magari ha il libro professionista giovanissimo e poi l'azienda con il referente che ha una grande età, però è anche vero che specialmente se ci andiamo a vedere quando entriamo in contatto con il cliente ha più o meno sempre la stessa età, a meno proprio che non ci siano casi sporadici, ma questi non li vogliamo analizzare perché nel business si analizza solitamente solo quelli che sono dei gruppi macroscopici così da non disperdere le forze, allora se tu tutti ci metti a pensare, beh quando sei entrato in contatto con quel cliente che età aveva, vedrai che se poi la relazione può andare avanti nel tuo lavoro e non è una vendita a spot, sicuramente vedrai che più o meno entrano in una fascia di età, ecco questa fascia di età andiamo a analizzarla, facciamo finta che sia tra i 25 e i 40 anni in questo momento nel 2018, beh 25 e i 40 anni significa che 2018 meno 40 fa 1978, ecco quella è l'età in cui è nato, ma non vogliamo analizzare l'età in cui è nato, quello che ti voglio portare a far pensare è l'età in cui è cresciuto, cioè dove si formano i valori della persona, ecco questo è quello che fa il cambio generazionale, non è l'età, non è nell'epoca in cui vive, ma è nell'epoca in cui cresce, perché se viviamo un'età giovanile che magari è nel periodo della guerra, beh sarà molto diversa rispetto a quella magari del post guerra in cui c'è stato il boom economico ed è molto diversa rispetto a quella dove viviamo in un'epoca del terrorismo, questa che è adesso, insomma ogni epoca ha una sua giovinezza che vive in una certa particolare zona dell'evoluzione umana, quindi andiamo a analizzare tra i 25 e 40 anni, il più anziano è nato nel 1978, il più giovane è nato verso la fine degli anni 80, ecco questi ragazzi hanno una particolarità in questo momento, si trovano a metà perché chi è nato alla fine degli anni 80 e quindi ha vissuto la sua giovinezza nel 2001, nel 2002, 2003, insomma subito dopo la caduta delle torri gemelle, subito dopo gli attacchi in giro per l'Europa, insomma nell'epoca in cui il terrorismo ha fatto e ha preso i ragazzi e nell'epoca in cui Facebook, i social network sono nati e sono proliferati, ecco è molto diverso da chi ha oggi 40 anni, quindi se hai questa fascia d'età in questo momento non è che ti devi preoccupare, però stai assistendo nei tuoi clienti a due clienti molto diversi, colui che ha come valori e come concetto della vita, cioè i millennials centellians che hanno come valori di riferimento sicuramente il noi, il personalizzabile, il sociale, il collaborativo rispetto a quelli che sono un pochino più anziani che però hanno vissuto la loro giovinezza in un'altra epoca e si ritrovano che hanno il valore dell'io, il valore del brand, il valore diversificato proprio perché sono nati in un'epoca in cui c'era ancora la serenità, i tuoi genitori erano, se hai 40-50 anni i tuoi genitori erano i genitori del boom economico, quindi del post guerra e sicuramente hanno vissuto un'epoca in cui c'era molta abbondanza e le marche ne facevano la padrona proprio per scalare questa scala sociale in cui avere e possedere era un fatto distintivo, quindi dipende anche molto ovviamente da chi ti ha cresciuto e come in quelle età per te sensibili che ti formano in modo molto importante ti ha dato un'educazione. Se parliamo quindi di cambiamento rispetto ai tuoi 40-50 anni di storia bisogna analizzare anche questo, cioè se le richieste dei miei clienti stanno cambiando, se l'approccio dei miei clienti sta cambiando, sicuramente ognuno sta notando questa cosa nel proprio business, io notavo una difficoltà nello spiegare quali erano i vantaggi e quali sono i vantaggi attuali di creare una piattaforma per la tua azienda, una piattaforma che non è un sito web e non è un e-commerce, una piattaforma è una cosa molto più radicale perché va a prendere anche la gestione interna dell'azienda, i flussi dell'azienda, quindi una piattaforma per me non è soltanto la crosta finale che magari può essere un e-commerce, può essere anche un sito web però riservato agli agenti, insomma una piattaforma è tutto ciò che è anche all'interno dei flussi dell'azienda, la gestione interna dell'azienda, la gestione del magazzino, questa per me è una piattaforma, tanto per intenderci. Ecco, spiegare questi concetti a una persona che ha sopra i 50 anni è molto diverso rispetto a una persona che ha sotto i 30 anni o i 30 anni, perché? Perché a parte che ci sono anche delle esigenze diverse, perché magari da una parte chi è più radicato nel territorio e ha un'azienda da così tanto tempo è abituato anche a fare magazzino, a fare scorte e nel tempo si è dovuto adattare al nuovo meccanismo di vendita in cui il magazzino è un vero costo e la produzione deve essere molto più veloce e molto più flessibile, ma il ragazzo, il nuovo imprenditore non ha necessità della spiegazione di che cos'è una piattaforma e di quali sono i vantaggi, vuole sapere come personalizzarla, vuole sapere come rendere quel flusso diverso perché lui lo vuole gestire in una maniera diversa, quindi mi sono reso conto io nel mio lavoro che la parte di formazione che noi facevamo appunto per educare l'imprenditore e comprendere i vantaggi di una piattaforma e capire perché la gestione come la stava facendo adesso era poco misurabile e quindi difficilmente si riusciva a trovare quali erano i problemi e a migliorarli, a misurarli e a comprendere ancora e a ridare una botta dal cerchio e una alla botte, si dice sempre e questo per migliorare il business, in questo momento quando parlo con i giovani loro mi dicono vorrei capire, vorrei capire da solo, vorrei farmi una cultura io e poi confrontarmi con te su questo, mi succede spesso, io consiglio magari dei libri, magari faccio dei video, magari li porto in azienda, abbiamo ad esempio molti imprenditori che fanno con noi un percorso di affiancamento, ecco che poi è a vari livelli, c'è chi è lo startupper che quindi ha magari un affiancamento molto più deciso all'inizio e poi più morbido in fondo, oppure c'è chi semplicemente da anni sta con noi e ogni mese viene a fare una call oppure andiamo noi da lui, insomma c'è questo rapporto continuo in cui ci andiamo a confrontare e portiamo idee, ecco questa visione era molto più complicata farla comprendere a chi arriva dal passato e chi ha l'idea che da soli si può fare tutto, mentre invece è molto più forte e molto più desiderata dai ragazzi di oggi che vogliono capire, vogliono socializzare, vogliono personalizzare, vogliono arrivare a gestire il flusso del proprio business ma vogliono anche addirittura dare ai loro simili, cioè a chi è paritetico adesso o chi sarà grande nei prossimi anni, la possibilità di personalizzare addirittura la gestione del prodotto finale. Quindi ti parlo ad esempio di grandi marche che stanno avendo difficoltà perché sono grandi marche e il ragazzo d'oggi, che è il cliente di domani, ha l'idea che la marca di nicchia sia più fica, ha la possibilità di personalizzare il prodotto quando esce, ha la possibilità di utilizzarlo a suo modo quando lo compra, quindi questa voglia di cambiamento che è arrivata per chi è nato dopo l'inizio degli anni 80, ecco questo è quello che dominerà poi il mercato dell'acquisto nei prossimi anni, quindi anche tu dovresti iniziare a pensare come il tuo cliente sta cambiando, anche se poi entra sempre a 35 anni, 40 anni come tuo cliente tipo, bene i 35 anni e i 40 anni di oggi sono molto diversi dai 35 anni e i 40 anni di domani, ma domani intendo proprio tra 4, 5, 10 anni perché i ragazzi che sono nati nell'epoca del terrore, nell'epoca in cui personalizzare è bello, nell'epoca in cui i social ti hanno permesso di esprimere la tua opinione e dire la tua, insomma tutte queste possibilità hanno fatto sì che gli acquirenti di domani siano molto molto spinti a comprendere, voler esprimere da loro, socializzare, personalizzare, tutti questi dettagli sono molto ben spiegati su un libro che ho letto di cui ho appena fatto un riassunto molto molto spinto, insomma da 150 pagine a 10 pagine che secondo me sono molto leggibili, ho fatto anche un video, ho fatto anche quindi una spiegazione secondo me video e audio di quanto è scritto e quanto ho riassunto, questo voleva essere soltanto un estratto per farti pensare a queste cose perché ci sono molti particolari che non ho affrontato, magari li affrontiamo insieme, ti invito anche a venire a vedere su www.criticodigitale.it quali sono gli approfondimenti che ho fatto così magari se vuoi diventare anche tu un criticone puoi supportare il progetto e venire e entrare in tutti questi contenuti approfonditi che voglio riservare a chi spinge questo progetto. La domanda che ti voglio lasciare oggi però è il mio cliente tipo a che età più o meno entra da me in contatto con me e da quanto sono sul mercato e quindi quante volte questa generazione entrante è cambiata perché sicuramente sta per cambiare in una maniera molto forte con i millennials e cambierà ancora di più con la generazione Z che è successiva ma questo è il marketing dei post millennials e adesso è un po' troppo in là. Comunque sul libro è spiegato e ci ho fatto una riflessione quindi ti invito a venirla a vedere e a dirmi la tua. Se vuoi continuare questa conversazione vieni su Critico Digitale Club, su Facebook, il gruppo chiuso in cui possiamo confrontarci anche su questo e dirmi la tua su quello che hai dovuto affrontare in questi 50 anni magari di attività perché anche se vai su B2B comunque le persone sono alla base anche del rapporto tra aziende perché ovviamente tu devi vendere sempre a una persona. Poi che ci siano molte particolarità nel B2B, sono il primo a saperlo e sono il primo a volerle sempre a sottolineare quando ti dicono che è soltanto rapporto tra persone. Però non bisogna mai dimenticarsi che le persone cambiano anche se le posizioni restano uguali semplicemente perché sono nate in epoche diverse e hanno valori diversi. Bene, anche per questa puntata è tutto. Ti invito a scrivermi se vuoi dirmi la tua su telegram.me slash Giassi Rosati, telegram.me slash Giassi Rosati, dimmi la tua, esponimi anche un'idea per fare una puntata, io ne sarò felicissimo e ci sentiamo alla prossima puntata di Critico Digitale. Ho detto prossima come se fossi un po' mangiereggio. Ciao, ciao, ciao. Critico Digitale.it Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business. A cura di Giassi Rosati.